Allora capitano intanto come stai? Ho saputo che hai avuto un brutto colpo. No vabbè cose che capitano, ci stanno. Bella partita? Una partita, una bella partita, una bella partita contro una squadra che gioca bene. Il primo tempo un po' sotto tono, abbiamo tentato di giocare contro piede, siamo andati sotto, siamo stati bravi a recuperare, poi il secondo tempo abbiamo giocato bene, ci sono i nostri difesi sempre chiando una mano e quindi bene, sono contento. Il migliore dei tuoi chi è stato? Non c'è un migliore, si dicono che sono delle frasi fatte ma è così, la squadra sta bene, abbiamo avuto delle difficoltà in alcune partite ma siamo lì, siamo nella zona playoff, quello che ci dico è il nostro obiettivo, va bene così, adesso pensiamo subito alla prossima, che c'è la sottile che già ci pensa. Va bene capitano, ti ringrazio, buona guarigione dalla botta. Grazie, ciao.